Ancora il coronavirus è stato registrato il primo decesso in Europa causato dalla malattia. Si tratta di un turista cinese ottantenne che era giunto in Francia da Wuhan e da tempo si trovava in isolamento. Le autorità francesi ribadiscono che resta comunque basso il rischio di contagio. Vediamo da Parigi il servizio della corrispondente Nicoletta Manzione. Il decesso del turista cinese ricoverato in Francia è stato annunciato dalla ministra della Sanità Agnès Bouzain. L'uomo di 80 anni era arrivato a Parigi dalla provincia di Wuhan a metà gennaio, già contagiato e in precari condizioni di salute. Era stato ricoverato in isolamento insieme alla figlia nell'ospedale di Bichat. Si tratta della prima vittima da coronavirus al di fuori dei confini dell'Asia e la prima in Europa. Le autorità sanitarie francesi sottolineano che non c'è un rischio epidemia. Il tasso di contagio è piuttosto debole e colpisce le persone anziane o già con altre malattie respiratorie. In tutta la Francia sono 11 casi di contagio confermati. Sei sono in trattamento presso diversi ospedali e le loro condizioni non destano preoccupazione. Dei cinque britannici contagiati nello chalet sulle Alpi francesi, quattro sono già guariti e dimessi. Sulla nave da crociere in quarantena a largo del Giappone, nello screening periodico, un cittadino francese di 80 anni è risultato positivo al test ed è stato portato nelle strutture sanitarie di emergenza giapponesi. Intanto sale a oltre 1.500 il numero ufficiale... Grazie. 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 Grazie.